Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 9 settembre e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzzimib. A che punto siamo arrivati? Allora, il quarto ciclo settimanale del mensile, quello che dovrebbe chiudere il semestrale, il TP4 stesso, quindi con un ribasso di un TP1, ovvero un ciclo bisettimanale, è arrivato a 1. 2, 3, 4, 5 e 6T-3. Dato che è già vincolato al ribasso, continuiamo a scendere, anche tra oggi e i prossimi giorni, almeno sotto i 12.753 punti. I future in questo momento segnano, dunque, su DAX, meno 49 punti, su italiano, su Fuzzimib, meno 90 punti, sono molto fluidi, si stanno muovendo molto rapidamente perché prima erano ancora differenti. Però attenzione, da qui abbiamo la tranquillità che si è partito un sesto T-3 che è già arrivato a 9 barre su minimo 21-22, quindi noi siamo rimasti short dalla media mobile a 50 periodi, che non sta riuscendo ad andare, come volevo magari qua, uncinando, in Golden Cross. Continuiamo ad essere in Death Cross. Attenzione, però, che in una situazione in cui sono molto vicine e parallele, le cose possono cambiare rapidamente. Ieri c'è stato un... Anzi, scusate, oggi... Sì, ieri c'è stato una forte discesa che ha ricompensato questa salita persino un po' troppo forte, e che ci ha riportato molto vicini, appunto, a questo minimo. Abbiamo avuto un ritracciamento del 75%. Per cui, anche per oggi, soprattutto per il discorso della chiusura di un altro T-2, che è partito qui insieme a un T-1, un ciclo 4 giorni in media, valutate gli shortary top. Ok. Questo per quanto riguarda DAX, con questa situazione, 3, 4, 5 giorni, minimo ne dura 6, target naturale sotto i 12.753, il livello superiore della cumo 12.721. Per chi segue su Facebook il gruppo premium, e nel gruppo premium avremo livelli molto più specifici, dati dall'algoritmo, come al solito, a inizio mattinata, entro le 9 e mezza circa. Però, la tendenza è quella, e come vi avevo raccontato anche ieri, l'altro target effettivo per la chiusura con un T-1 ribassista, quello naturale è questo, a 12.151. Nei prossimi giorni, o se vorrà esasperare un movimento ribasso, in rottura del livello superiore della cumo. Per quanto riguarda il FUZI, la situazione è ancora più compromessa, perché abbiamo avuto 1, 2, un T-2 già chiuso, ribassista, con un T-1 che è già vincolato al basso, per cui, assolutamente, prosecuzione di ribasso, magari, già in mattinata, probabilmente, perché comunque il stesso T-3 è arrivato orientativamente, perché doveva esserci una piccola linguetta qua, a 11 barre, sapete che nel 1-24, sapete che ha senso iniziare a shortare i top da metà ciclo orientativamente, se il ciclo ci si aspetta che sia ribassista. Ricordatevi che però qui, avendo già chiuso un primo T-2, deve far partire un secondo T-2 eventuale, in realtà non eventuale, un secondo T-2, ok? E che per farlo, ha bisogno perlomeno, di un... tre orette a rialzo. In questo momento, ce l'abbiamo, teniamocela strette, e vediamo, perché se andremmo rapidamente in violazione dei 19.201, lo short è da fare immediatamente per il resto del tempo ciclico, che ci separa le... che ci separa dalle 24 barre, ovvero 24-11, 13 barre da 15 minuti, 4-8-12, circa 3 ore di scesa. Per quanto riguarda la situazione anche qui a livello ciclico, sapete che è più compromessa, sapete che in realtà qui ci basterebbe un aggiornamento del minimo di oggi, oggi, per avere la chiusura completa del T-4 iniziato qui, del semestrale iniziato con il T-5. Perché? Perché da qui parte il T-1 bisettimanale, che deve essere ribassista per la chiusura del T-4. Per cui, partendo da qui, noi siamo già sotto in questo momento, basta una candela sotto questo minimo a 19.201 in una certa forma per chiudere il T-4. Quindi, attenzione, oggi, potenzialmente, state in guardia. Può essere l'ultimo giorno di discesa. Non penso, ma avremo una condizione sufficiente. Altre cose in particolare da dire non ce ne sono. Fate intenzione sempre all'inverso per vedere se è chiuso, perché se qui, appunto, su questo massimo ha chiuso il terzo T-3 inverso, spingeremo poi per far partire appunto il quarto. Esattamente sempre, in discesa. Stessa identica cosa qui, su DAX, essendo arrivati a 32 barre, durata in media, per un inverso, può spingere tranquillamente per far partire il successivo. Per cui, anche per oggi, mi aspetto predominanza di discesa rispetto alla salita con i target che vi ho dato. Se l'analisi vi è piaciuta, mettete un like, sottoscrivete il canale gratuito e cliccate sulla campanella per avere un'idea di quando usciranno i nuovi video. Se volete approfondire, scrivete una mail a info-financialarmor.eu per chiedere documentazione gratuita sulla ciclica di base per arrivare poi alla ciclica voluta e anche che cosa facciamo nel gruppo premium su Facebook. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.